Buongiorno, vi chiedo cortesemente di accomodarvi perché come avrete visto sarà una giornata molto fitta di interventi e siccome dobbiamo lasciare spazio a tutti vorrei evitare il più possibile i tempi morti. Io inizio con un ringraziamento a tutti, poi lo farò in maniera formale alla fine di questa mia introduzione prima di dare la parola al dottor Massimo Annicchiarico che è il direttore sanitario dell'azienda USRI di Bologna che ci porta i saluti dell'azienda USRI di questa città. Ringraziare tutti perché ancora una volta come succede da sei anni abbiamo avuto una grande risposta da parte vostra. Comincio subito con quella che deve essere da quando i conflitti di interesse in medicina vengono considerati fortemente condizionanti tutte le iniziative di formazione con elencare i nostri. Questo evento come sapete è sostenuto interamente dal Gimbe senza alcun supporto né istituzionale né commerciale. Relatori e moderatori non hanno ricevuto alcun compenso né alcun rimborso spese. Gimbe eroga attività di formazione e consulenza sui temi trattati dalla conferenza e lo stand del pensiero scientifico editore a scanso di equivoci è stato ospitato senza chiedergli alcun compenso. Quali sono le scelte che abbiamo fatto per questo per questo evento? Sono quelle che facciamo ogni anno. Ho già detto no sponsor, partecipazione gratuita e servizi essenziali. Questo va nella logica che a livello internazionale qualcuno di voi conoscerà il sito del no free lunch. Smettiamolo di organizzare eventi dove quello che è più importante è quello che andiamo a consumare dal punto di vista alimentare. Quest'anno per la prima volta ci sarà una sola relazione preordinata e 16 contributi che sono stati selezionati da ben 74 interventi ricevuti da professionisti e organizzazioni sanitarie di tutta Italia. A fine convegno potete scaricare dal sito web le presentazioni, i video e l'abstract book e gli autori come l'anno scorso avranno la possibilità di pubblicare i propri contributi su Gimbe News che è la nostra rivista metodologica indipendente. Ci sono due novità quest'anno, ci sarà una speciale conferenza su Medical Doctor Web TV che è una web tv destinata ai professionisti sanitari e i Gimbe Hours 2011 che sono dei premi che abbiamo istituito per due professionisti e un'azienda che hanno inviato i contributi che hanno ottenuto il maggior score. Adesso poi vi spiegherò un attimo come sono stati selezionati. Ecco è chiaro che questo sarà un punto interrogativo che scopriremo a fine giornata. Gimbe News questi sono i sei contributi che sono finite nella sezione progetti aziendali che qualcuno di voi ricorderà sono stati presentati alla conferenza Gimbe dello scorso anno e che sono già stati ospitati dalla nostra rivista metodologica indipendente Open Access. Qual è stata la vostra risposta? Abbiamo avuto quest'anno, abbiamo sferato le mille registrazioni con un'ottantina di persone che hanno disdetto prima dell'inizio dell'evento e vedete 74 contributi pervenuti con di cui 16 selezionati. Come loro possono vedere da questo trend nel 2006 non avevamo fatto call for abstract dal 2007 al 2011 in particolare dal 2008 al 2011 il numero di contributi pervenuti sui temi della conferenza è cresciuto in maniera esponenziale. È ovvio che l'altezza delle barrette rimane sempre uguale perché il format non si è mai modificato una giornata 10-16 quindi di fatto non riusciamo a selezionare più di 16 contributi. Quest'anno abbiamo cercato di fare il massimo in termini di metodologia. Revisione in cieco o in doppio per ciascun abstract. Assegnazione di scorro da 1 a 4 per 3 dimensioni di ciascun lavoro. Innovazione contenuti, rigore metodologico e rilevanza dei risultati. Quindi ciascun autore ha potuto prendere un voto minimo di 4, un voto massimo di 12. Sono stati assegnati topic che poi sono diciamo le 8 mini aree in cui sono organizzate le due sessioni e poi per ciascun topic sono stati scelti due contributi con lo score totale più elevato. Ecco ad esempio abbiamo ricevuto tantissimi contributi sul rischio clinico ma se avessimo scelto i migliori mezza giornata sarebbe stata dedicata esclusivamente alla gestione del rischio. Questo è il processo che abbiamo seguito vedete da 74 a 16 che poi magari potete approfondire scaricando o scaricando la presentazione. Questa è la distribuzione dell'aula vedete 910 professionisti da 17 regioni, mancano la Valle d'Aosta, il Molise e la Calabria. Questi professionisti appartengono a tutte le professioni sanitarie riproponendo un po' quello che è la distribuzione, lo schema della percentuale dei professionisti per le varie professioni sanitarie, ecco queste sono quelle che vedete arrivano fino al 2 per cento ma ci sono anche professioni sanitarie cosiddette minori che sono rappresentate all'interno di quest'aula. Di fatto sono rappresentate tutte le aree dell'organizzazione sanitaria, ecco quell'ND che è un po' uno degli elementi dell'audit clinico che poi vedremo di migliorare, ecco vi chiedo per l'anno prossimo per la registrazione online di qualificare sempre la vostra appartenenza perché il 23% non sappiamo a quale area appartengono ma vedete che di fatto sono rappresentate tutte le aree dell'azienda sanitaria. Come sarà articolata la giornata? Adesso darò la parola all'amico Massimo per i saluti aziendali, poi terrò la mia lettura introduttiva e poi ci saranno due sessioni che come vedete sono destinate a vari strumenti di governo clinico perché il filo conduttore della conferenza di quest'anno sapete è l'approccio di sistema, quindi non più un uso frammentario di strumenti ma vedremo legato da una logica di tipo organizzativo gestionale ma anche di politica sanitaria generale. Quindi vedete che nella prima sessione si parlerà di evidence best practice, di linee guida, percorsi assistenziali, procedure e protocolli, di audit clinico indicatori e di formazione continua e sviluppo professionale. Nella sessione del pomeriggio invece ci saranno altre tematiche altrettanto interessanti, gestione del rischio e sicurezza dei pazienti, è il technology assessment, quindi valutazione delle tecnologie sanitarie, strategie e modelli organizzative e coinvolgimento degli utenti all'interno dei servizi sanitari. Devo chiedervi alcune cortesie che poi sono sempre le stesse, cercate di stare seduti perché per un giorno non dovreste avere grossi problemi sulla vostra carta del rischio cardiovascolare. Vi chiedo di tornare puntuali al rientro alle 14 e 15, di tenere spente le suonerie dei cellulari, quando interverrete per le domande fate in modo che siano pertinenti e sintetiche, chiedete l'attestato di partecipazione all'uscita o comunque sappiate che non potete richiederlo diciamo in anticipo e il relato richiede ovviamente il massimo rispetto dei tempi e di rimanere fino a fine giornate per la consegna dei premi che abbiamo istituito da quest'anno. Anche se questo non si vede benissimo da vicino ma da lontano dovrebbe identificarsi quali sono le lettere, grazie a tutti per la vostra, evidentemente qua non gli piace, ecco. Ovviamente ringrazio i miei braccio destro e braccio sinistro Elena Cottafove e Marco Mosti, gli altri collaboratori dello staff Gimbe, tutti gli autori che hanno contribuito al programma, i moderatori e ovviamente tutti i partecipanti. ovviamente lo faccio scrivendolo in maniera diversa e grazie a tutti per essere presenti qui oggi, grazie.